Icon Palestre a Montesilvano, il nuovissimo centro fitness in Via Ruffilli 1. Icon Palestre è aperto 7 giorni su 7. Con Icon Palestre avrai tutto il fitness che vuoi, da soli 19,90 euro al mese. Vuoi noleggiare un'auto? Pronto Rent, l'auto noleggio vicino casa tua. Guida sicura e senza problemi. Salve a tutti, oggi parliamo di fantasmi. Secondo alcuni, i fantasmi apparirebbero in determinati luoghi in cui sono legati per qualche motivo, oppure in cui hanno trovato la morte, e più delle volte in maniera violenta. Come il caso della nobildonna romana Beatrice Cenci. Il fantasma di questa bellissima ragazza, morta in giovanità, pare che infesti la rocca di Petrella Salto. Sostengono invece che ella sia presente all'imbrunere e gli spalti di Castel San D'Angelo, che sono praticamente i luoghi dove la sua famiglia fu sterminata dal papa. Clemente VIII, in seguito alla morte di suo padre, la morte violenta di suo padre, poiché secondo alcuni furono i figli, compresa la seconda moglie, ha da ammazzare Francesco Cenci, un uomo molto molto violento, cattivo e perfido, che si era macchiato di tutti i crimini possibili e immaginabili, tra cui anche la pedofilia. Altri sostengono che il fantasma di questa bellissima ragazza vaghi per Villa Borghese, dove pare ci sia un suo ritratto, secondo alcuni, disegnato da Guidoreni. Questo ritratto, secondo alcuni, questo quadro per la precisione, sia in realtà contenga l'anima della stessa Beatrice Cenci e che in un determinato periodo dell'anno, l'11 settembre forse, la data della sua morte, questo quadro si animi e Beatrice Cenci venga fuori lo spirito, il fantasma di Beatrice Cenci venga fuori appunto da questo quadro, alla ricerca del suo fratellino minore che è morto in circostanze sempre misteriose e di cui non si è mai saputo dove praticamente giace il corpo. Secondo la leggenda, ella cerca il corpo delle spoglie mortali di suo fratello per ricongiungersi con lui e per trovare finalmente la pace eterna, cosa che non ha avuto in vita.